Stefania Alticonda, presidente della Croce Rossa della sezione di Penne. Croce Rossa sempre presente per iniziative di questo genere? Croce Rossa di Penne è il comitato del territorio che è sempre presente a sostegno della popolazione in tante situazioni, in tante occasioni. L'obiettivo di Croce Rossa è sempre quello di essere di supporto e di sostegno alle persone in difficoltà ma anche di prevenire le patologie e le difficoltà, le vulnerabilità del territorio. Quindi queste attività sono indispensabili per la popolazione e questo ci fa piacere. Trasmettere alla popolazione l'importanza di prevenire l'osteoporosi. In una popolazione anziana, soprattutto quella che è in questo territorio, fare prevenzione dell'osteoporosi vuol dire abbattere almeno del 50% il rischio di fratture, soprattutto appunto negli anziani. Trasmettere questa sensibilizzazione è importante sia da un punto di vista proprio culturale, conoscitivo, da un punto di vista formativo ma è anche proprio a livello socio-economico. Perché dico socio-economico? Perché le fratture del femore in modo particolare sono un motivo di spesa sanitaria importante. Quindi cercare di fare prevenzione vuol dire anche essere attenti agli aspetti socio-economici della nostra azienda uspedaliera. Offrendo questo piccolo servizio gratuitamente con un esame che si chiama CUS al Calcagno per valutare appunto l'osteoporosi e la consulenza sia mia ma soprattutto da parte del collega che nel mio reparto si occupa di osteoporosi, il dottor Gian Domenico Peracchia. Perché abbiamo finalmente istituito un giorno al mese dedicato all'osteoporosi e siamo soddisfatti anche di aver messo in piedi questo ulteriore servizio che fino a poco tempo fa nel nostro presidio ospedaliero non c'era. Inoltre credo che sia da parte nostra un motivo importante per dire grazie alla popolazione di Penne e per fare a loro i nostri auguri di Buon Natale.